we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi un sacco di novità per quello che riguarda il futuro di fortnite oramai gli ultimi giorni l'ultima settimana di questa stagione numero due che ci porterà alla season 3 e che ci farà vivere il nuovo finalmente evento prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora ragazzi andiamo direttamente al primo argomento di oggi e si tratta di un'immagine che è stata aggiornata da qualche ora nei file di gioco che cosa sta a significare questa specie di ferro di cavallo questa c vediamola così beh non è altro ragazzi che la tempesta che si sta formando intorno all'agenzia e che in poche parole verrà controllata dal doomsday device il fatto che ci siano nei file di gioco delle dei file relativi a un aggiornamento di queste nuvole vuol dire che probabilmente anzi certamente avranno un ruolo importante per quanto riguarda appunto l'evento e che quindi potranno magari modificarsi ingrandirsi o interagire direttamente con quello che succederà ovviamente non lo possiamo sapere finché non lo vediamo però una bella informazione in più e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto caldo in questi ultimi giorni sui vari forum dedicati a fortnite ve ne avevo già parlato qualche giorno fa mostrandovi quattro stringhe dedicate al nerf della mira per chi utilizza il pad sul pc beh anche qua ci sono dei nuovi aggiornamenti qualche giorno fa questa immagine di un paio di giorni fa sono state aggiornate delle altre stringhe come come leggiamo vediamo ad esempio la prima che dice aim assist pull inner strength quindi boh non so che cosa voglia dire come come dato diventa 0.045 pull outer strength che diventa 0 375 pull inner strength ads e pull outer strength ads insomma ragazzi sono dei nuovi dati che servono appunto a bilanciare diciamo la mira per chi utilizza un pad su pc questo ovviamente questo aggiornamento è stato fatto per tutto il focolaio che si è un pochettino manifestato nei vari forum su tanti video su youtube e nei siti che parlano di fortnite dove ovviamente c'era uno squilibrio notevole ne abbiamo parlato ampiamente per i giocatori che giocano nei server del pc con il pad e quindi fortnite epic games sta cercando appunto di riequilibrare un pochettino le cose staremo a vedere se vi sembra che ci siano state delle modifiche anzi se vi sembra che giocate con il pad che ci sono state delle modifiche beh scrivetelo qua sotto perché sono molto curioso di leggere le vostre opinioni e andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi ragazzi perché sbada bim sbada bam questa signorina potrebbe anzi molto probabilmente sarà una delle due nuove skin che arriveranno però su salva il mondo come vedete ragazzi in alto a sinistra di questa immagine c'è il logo di battle breakers per chi ancora non conoscesse battle breakers è un gioco sviluppato da epic games disponibile per mobile quindi sia android che ios ed è un gioco a turni praticamente no tu hai una squadra di eroi che devono avanzare in determinati livelli per sconfiggere dei mostri che appunto continuando ad avanzare sconfiggi i boss e puoi sbloccare dei potenziamenti per la tua squadra e ovviamente per il tuo personaggio perché è importante battle breakers perché se ancora non lo avete fatto e siete giocatori di salva al mondo scaricando battle breakers e allacciando il vostro account epic direttamente dall'applicazione otterrete livellando il vostro personaggio i primi cinque livelli e i primi 25 se non ricordo male due skin in maniera completamente gratuita per salva al mondo questa invece è una delle due nuove skin e questa invece è la seconda sono da un po inserite ma hanno ricevuto degli update quindi molto probabilmente magari nella season 3 verrà un po rilanciato questo piccolo videogioco piccolo mica tanto di epic games su mobile che appunto sfrutta il fatto di poter essere collegato con salva al mondo per regalare delle skin che non ci fanno mai schifo e andiamo avanti a parlare di un altro argomento molto interessante ragazzi proprio lei e sì perché con tutto questo trambusto non dobbiamo dimenticarci che sta per uscire una nuova icon series innanzitutto mentre vi parlo vi faccio vedere il gameplay il video così ce l'avete anche voi sott'occhio per chi non lo sapesse questa è la skin dedicata a loser fruit ve ne ho già parlato una youtuber un paio di milioni di utenti va a prendersi il posto tra le icon series la skin molto carina molto colorata ovviamente anche con un emote probabilmente personalizzata quindi non credo che sia una roba acquistabile a parte la stiamo vedendo proprio in questo momento e giustamente in molti di voi mi hanno chiesto ma quando arriva arriva la skin di loser fruit nello shop abbiamo finalmente una data ragazzi secondo delle fonti abbastanza sicure la skin arriverà il 3 giugno quindi dopo domani potremmo trovarla il prezzo 1200 1500 penso 1500 perché è abbastanza colorata però in realtà non ricordo bene i prezzi delle icon series forse 1200 speriamo che sia così così ci costa di meno insomma ragazzi anche qua degli aggiornamenti e andiamo a parlare dell'ultimo argomento di oggi allora ragazzi io intanto per tutti quelli che non vogliono avere nessuno spoiler dell'evento li saluto non guardate ragazzi non guardate quello che sto per farvi vedere quindi per quelli invece che vogliono scoprire quello che potrà succedere o meglio delle cose che ci saranno adesso andiamo a vedere una cosa prendo due secondi di silenzio in modo che chi vuole si ferma e direi che ci siamo ragazzi forse non lo sapete ma succederà qualcosa di incredibile all'agenzia e voglio farvi vedere ciò che succederà all'agenzia lo commentiamo insieme mentre lo guardiamo beh ragazzi guardate un po che roba insomma l'agenzia si distruggerà completamente o comunque in gran parte questi sono questo è un gameplay di come risulterà l'agenzia al termine dell'evento e se andiamo un attimo a fermare l'immagine e guardiamo come vedete lasciate perdere tutto quello che c'è all'esterno a sinistra vedete quella macchina non c'entra niente immaginate l'agenzia sulla sua isola totalmente devastata quindi mi viene in mente che non sarà probabilmente non andrà a buon fine la la doom il doomsday device quindi mida probabilmente non riuscirà nel suo intento o qualcuno lo fermerà potrebbe anche essere ombra rinegata e quello che stiamo vedendo sarà veramente uno scenario di devastazione che lascerà un segno indelebile a tutti quelli che hanno apprezzato l'agenzia se devo tirare delle conclusioni molto probabilmente partirà poi nella stagione 3 il processo di ricostruzione dell'agenzia abbiamo già visto delle immagini molto molto veritiere che potrebbero essere appunto quelle relative alla nuova agenzia quindi molto più imponente molto più grande e molto probabilmente con una nuova storyline alle spalle insomma ragazzi tante tantissime notizie è un grande hype per l'evento che vi ricordo arriverà se non ricordo male il 6 giugno mentre il cambio season sarà l'11 giugno io sarò in live in entrambi i casi non vedo l'ora di vederlo e non vedo l'ora di vedervi perché saremo in tantissimi per oggi però vi ringrazio per avere guardato il video news vi ricordo anche che c'è il secondo canale ufficiale lo trovate cercando xuder best moments ci tengo che vi iscriviate anche di là non dimenticate di lasciare un bel like a questo video e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao